Si devono fermare tutti i procedimenti per la prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi in programmazione e in attività nel Golfo di Taranto. E' questo l'intento cui tende il Movimento 5 Stelle in ufficiale appoggio ai meetup ionici della provincia tarantina, che da mesi sono attivi e in prima linea con diverse iniziative tese all'informazione e alla sensibilizzazione in merito alla problematica relativa alle ricerche di idrocarburi nello Ionio. Negli ultimi due consessi monotematici organizzati a Taranto a dicembre, i meetup a 5 Stelle hanno incontrato, si legge nella nota diffusa dal Movimento Grillo, alcuni esponenti di altri movimenti ambientalisti e di associazioni di categoria, specialmente quelle legate al turismo e alle attività lavorative che con il mare condividono in sostanza la propria ragione d'essere, con i quali hanno concordemente inteso collaborare ad una comune opposizione per la salvaguardia del Golfo di Taranto, a prescindere da colori partitici o da interessi locali. Un primo atto ufficiale quindi da parte dei meetup della provincia tarantina si è realizzato con l'inoltro di una lettera a tutti i comuni e alle regioni in cui hanno sede per sollecitare una presa di coscienza e di ferma opposizione alle ricerche di idrocarburi nello ionio e quindi ogni successiva fase di trivellazione sottoscritta da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle a cui fanno riferimento, tra i quali i senatori Nicola Morra e Barbara Lezzi, che hanno assicurato un impegno diretto affinché la problematica sia avviata a soluzione definitiva. Pertanto prosegue la nota in considerazione di un potenziale sconvolgimento di un ecosistema già fragile e dei possibili danni che subirebbero le aree interessate dalle ricerche petrolifere non solo in termini di immagine, la collaborazione sul territorio dovrà proseguire in ogni ambito ed ogni sede istituzionale, dal sud costiero dell'Alto Ionio, Cosentino, sino alla provincia di Lecce, passando per le terre materane e tarantine.